buongiorno aprica! buongiorno! il sole sorge! sulla cima! no! come stai Marbe? molto bene, molto piacevole oggi la giornata con te sulle piste di Ascicchi di Aprica oggi è il 31 gennaio 2023 per concludere gennaio buongiorno! 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 riprende! guarda! guarda a me! si! ci riprendiamo il A-5 apri di più! buongiorno! buongiorno! l'hai fatta bellissima però! l'hai fatta bellissima! l'hai fatta bellissima! è andavo velocissima già! vincica! buongiorno! stop! stop! oh! faccio a me che fa male! stop! stop! buongiorno! 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Non è vero. Sì. 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 Sì, 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 sì. Sì.